e bella a tutti ragazzi in questo nuovo video oggi peccato siamo senza microfono per essere un po col mouse e io devo avere tipo una usb per collegarlo e ecco che gioco da tablet e la usb cioè ci ho già occupata con il mouse e siamo su cooking favor un gioco dove si cucina ho già fatto livello 1 che ovviamente a me piace e giocavo tanto da piccolo allora ho deciso di riportarvelo in tutti i modi ci devo riuscire perché ovviamente porta e dai inizia a preparare dai cioè questo qua l'ho appena potenziato perché vabbè non potevo potenziarlo mi sembra era obbligatorio comunque ho fatto già un 3 stelle il pacco regalo ce lo danno alle 120 stelle ho preso in tutto vuol dire ok arrivo subito si giocava molto tempo cioè è praticamente impossibile se non sai come giocare devi sapere il momento giusto comunque appena hai fatto gli ordini continuo poi ovviamente ecco che siamo all'inizio perché ho appena scaricato ora su questo tablet perché c'erano sul vecchio tablet dove farò i video ma li farò tra un bel po e ve lo dirò quando inizierò a riusare il mio vecchio tablet comunque è un samsung questo qua lenovo con quello con cui sto registrando ed è meglio lenovo per ora però samsung veramente comunque bello comunque ok tre stelle di giallo vuol dire sono andato bene perdono la pazienza così velocemente che hai ancora 169 monete va bene vanno bene livello successivo che questo qua è la ricompensa che ci hanno dato così ora ovviamente completo obiettivi e incarichi per ottenere monete ovviamente noi diamo io un'occhiata ma ci ho appena dato un'occhiata io e ci manca poco dobbiamo sbloccare questo poi la padella raccomandato questi qua raccomandati sono anche questa quando ci manca poco andiamo livello 3 so durerà un pochetto cooking febber ma perché è veramente bello poi qua avremo le patatine fritte qua ci saranno gli hot dog che si vede anche qua poi qui ci saranno dei plum cake mi sembra se non mi sbaglio comunque c'è qualcosa non lo vuoi no guarda non accetta quello subito mi ha dato un botto di mancia vuol dire comunque se si brucia devi buttare nel cestino per quello o se no se fai l'ordine sbagliato lo butti nel cestino di solito faccio poi c'è anche l'insalata sì è un po difficile questo gioco se non sai giocarci sì ora ci servo pure l'inizio arrivo è impossibile devo aumentarmi le cose vuoi no 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 devo aumentarlo ora questo qua sarà ancora sempre uno però vabbè faccio le tre stelle si le faccio si do il panino lui dai 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 vi prego si si 171 monete cacciatello cacciatello tra poco sbloccheremo tutto questo ah possiamo bloccare i cupcake già ora ma facciamo che meglio di no perché allora io voglio fare il panino hamburger però il piano tavolo hamburger no già uno c'è anche il piano tavolo non so cosa serve distributore cioè manca poco per il distributore che diventano due possiamo lasciarlo anche così un tutorial facciamolo perché non ho presenti ah tutorial di questo ma non mi fa fare anche le altre come si sono diverse le piastre non ho capito lo conservo dai entra ora sono troppo vicino tastiera ok ah ottimo c'è te ne hai già uno in anticipo che già tiene calda e non scotta vuol dire ma fa benissimo qualcosa non ci sto più capendo niente ora io qua posso già farne uno e invece no ops 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 per favore eh no voglio solo questo questo voglio solo questo questo eh però io non anticipo nessuno nessuno vuole nooo sta andando un casino qua casino è il panino cotto 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 dai e ancora quella lì c'è c'è dai 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 un panino scaldato intanto aiuto lui se ne va non andartene no perchè sono perdo punte esperienza ecco a te dai ti prego cuoci cuoci posso fermi fino a 4 c'è il distributore automatico poi a un certo punto che veramente va troppo bene andiamo è qualcosa cosa dobbiamo fare perché allora questo di coca cola che la padella la padella e il tavolo costano troppo i distributori facciamo ora abbiamo questo ed è molto meglio secondo me comunque e ma questo qua non conviene potenziale c'è qualcosa da 100 no vabbè ormai dopo devi continuare comunque a migliorare e il tutorial non è andato proprio qui ma vabbè facciamo il 5 vabbè è un tutorial qua qua è già peggio qua è già peggio vero gabri qua diventa già peggio guarda impossibile cioè è impossibile intanto qua che abbiamo già due della coca cola siamo già meglio ora chiediamo il panino a lui qua io ho già ancora un hot dog però lo hot dog lo mettemo sulla piastra che scalda ok chiedi 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 così 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 wow se mi sto vaiando a 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 mangiare io voglio mangiare va bene gabri va bene un attimo e fammi finire un attimo questo livello e te lo vado a prendere c'è che non mi avanza l'hamburger c'è proprio lì non avanzerà mai poi mai eh no non avanza no intendo di arne c'è non è che che non la sto più preparando la carne per lo dog vabbè perché ora sono dog chiedete sono dog cioè ora sono dog prima volevate solo hamburger ora io qui ho un hamburger e ora io vabbè lo prendo per mettere la sua piatta vabbè arrivo con il panino arrivo con il panino è due quasi si è un special una platina è bravo no grazie no grazie vediamo qua il tuo cibo ok in che senso in che senso sopra sì ho capito riconvenza uno cosa c'è no vabbè però forza c'è gli scapelli dove sono gli scapelli no in direzione è bianfissimo è un attimo più speso di là eccomi ancora per voi sono passati zero secondi neanche il video è continuato ad andare ma io ho fatto una pausa per prendere le cose capri tipo di un minuto e mezzo ma ci sono veramente le panni sì te l'ho già detto ieri ma come sei quasi però io vengo no non voglio perché sennò è troppo facile no guarda prendo qualcuno uno di questi due ok lo dogs che è un altro dog ok no vabbè ti prego non bruciare ti prego poi ti do già questo poi faccio così poi faccio cosa è troppo comodo avere due coca cole diamolo a lui facciamo così facciamo cosa facciamo così facciamo così poi facciamo cosa poi ora arriva panino iniziamo a zello tocca lui prendiamo e facciamo così mettiamo facciamo facciamo così cosa attento prima lui poi no 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 lui ora se ne va aiuta non sta usano ok ormai 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 a l'uomo o ii 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 Casервi Guardate Il livello sette ci aspetta Che già un pochetto potenziato Guardate Qua sono ancora una però Dovremesso tutto staccato Si è già fatto lalala 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 capri per favore ora va bene non mi interessa dai aiuto è impossibile devo gestirmi meglio veramente ve lo giuro è impossible dopo questo livello ci fermiamo per il primo episodio per veramente troppo impossibile non ho sbagliato che persona qui dai c'è possibilissimo ah lo c'è il pagnolo dai pesante cambiano le facce fuori fiori gigante foto dove sbocci in discote divinato le canzone pesante per il padre papà 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 un video di cooking pepper è tutto infatti vi lascio con il ketchup qui di schermata e al prossimo video vi saluto ciao